Un altro grande appuntamento per l'estate pescarese, arriva Ironman, un appuntamento ormai presidente Becci che è diventato canonico per la nostra città, un appuntamento importante di grande rilievo che vede protagonista anche la Camera di Commercio di Pescara. Sì, è una sinergia tra le pubbliche amministrazioni, sicuramente il settimo anno di Ironman rappresenta per la nostra città un punto d'orgoglio, è l'unica tappa nazionale di Ironman che è un evento ormai che ha riscontri internazionali di primissimo piano. A questo abbiamo abbinato un Ferrari Day, chiamiamolo così, presso il porto turistico con la collaborazione del Ferrari Club di Atessa che ha avuto l'incarico da parte di Maranello di organizzare questa specie di esposizione con simulatori di pit stop, di guida simulata di Formula 1, per cui sarà sicuramente per i più giovani, per i curiosi e per gli appassionati un modo di conoscere questo mondo così affascinante come quello della Formula 1. A tutto questo è abbinato anche una tappa di Miss Italia, il che non guasta sicuramente perché Miss Italia sappiamo tutti di essere una manifestazione storica del nostro paese, per cui siamo soddisfatti di aver trovato insieme all'amministrazione, insieme alla Fondazione Pescara Abruzzo, grazie per quanto riguarda il Ferrari Day, all'importante collaborazione delle cantine Marramieno, una sinergia in cui la nostra città sarà un centro di attenzione e un veicolo e un motore economico come è nelle finalità della Camera di Commercio.